Buonasera a tutti ben ritrovati dal nostro quartiere generale di Milano in questo giovedì 21 novembre prego la regia di mettere in onda anche il sottopancia Matteo metti il sottopancia ok è arrivato la sottopancia buonasera a tutti ben ritrovati appunto in diretta da Milano in un'altra puntata di Reset oggi sono vestito come un texano un cittadino texano perché qui a Milano è venuto abbastanza freddo come vedete sono ben 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 bardato allora saluto un po' di persone che sono in questo momento collegate di nostri interattori intanto vi dico l'argomento della giornata di oggi parleremo per la prima metà della nostra trasmissione collegandoci con Roma con Maria Edera Spadoni e per raccontare ricordarci che cosa è successo con il deputato del PD Lattuca e della richiesta del momento 5 stelle di acquisire i video che insomma sono registrati costantemente in sessione diciamo continua appunto dalla camera dei deputati c'è stata una richiesta specifica alla presidente Boldrini ma ahimè non abbiamo ancora ottenuto nessuna risposta poi ci sono stati vari interventi anche della nostra portavoce Maria Edera che vedo già dall'altra parte quindi saluto e appunto anche oggi c'è stato anche una sorta di misunderstanding con chi presideva l'aula ovvero la deputata Sereni che ha fatto anche una figura un po' strana perché ha dimostrato di non capire un intervento assolutamente limpido e chiaro di Maria Edera che insomma spiegava anche dei problemi tecnici dell'invio delle email proprio alla presidenza della camera quindi nella persona di Laura Boldrini. Io vi voglio far vedere prima di appunto collegarci con Roma dove so che c'è già collegata Maria Edera che tanto saluto perché mi sta sentendo mando in onda l'intervento che spiega chiarisce un po' ci riporta ci fa la cronistoria di quello che è successo e poi sentiremo dal vivo dalle parole di Maria Edera proprio che come è andata cosa sta succedendo e qual è stata la richiesta così tanto rimandiamo anche un abbraccio. Preparatevi in chat delle domande se avete voglia di chiacchierare con Maria Edera e di fare delle domande specifiche o comunque anche solo che di abbracciarla virtualmente. Allora andiamo a vedere questo video che probabilmente alcuni di voi hanno già visto ma questo ci serve proprio per reintrodurre l'argomento di cui parleremo oggi. Ecco il video che racconta l'accaduto. Grazie Presidente. Solo per chiedere che il comportamento del deputato Lattuga venga esaminato dall'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. Grazie. Va bene. Riferiremo alla presidenza questa richiesta. Ha chiesto di nuovo il deputato Rosato. Sì anche per chiedere del comportamento del collega Villarosa che con lui discuteva e interloquiva. Va bene. Scusate. Vedo sette mani alzate. Darei la parola al deputato Villarosa. Presidente, veramente chiedo al collega Rosato di informarsi prima. Lei ha visto la scena. Siamo andati a calmare la situazione. Parli col deputato Lattuga e si fa spiegare quello che è successo prima di accusare le persone. Va bene. Allora ha chiesto di parlare il deputato Fiano che non vedo neanche. Scusate. Presidente, io in realtà volevo dire... Scusate, deputato Fiano. Sorial richiama a regolamento quale articolo? Per favore. Sarebbe troppo facile dire quello di Rosato che non ha citato nessun articolo ed è intervenuto due volte. Quindi non capisco se erano richiami a regolamento o interventi personali. Prego, ma lei ha la parola, Sorial. Innanzitutto. E io specifico quando ho la parola cosa voglio specificare. L'articolo è l'articolo 59 che le impegna a richiamare il deputato nel momento in cui e le spiego esattamente quello che è successo, lui con un suo comportamento in un qualche modo turbi il contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta. Il Presidente lo richiama nominandolo. Lei ha visto benissimo il fatto che il deputato Lattuga ha messo le mani sul volto e sulla testa della deputata Spadoni, uscendo per l'apposta da quella uscita, ha continuato a fare gesti e ha continuato a minacciare la deputata Lattuga finché mi lasci finire per cortesia, finché i deputati Villarosa e il deputato Trippiedi non sono andati lì a calmare la situazione. O ha onestà intellettuale di dire le cose come stanno oppure qua non la facciamo finita su questa questione. Deputato Sorial, primo, la Presidenza ha registrato la richiesta del deputato Di Maio di esaminare il comportamento del deputato Lattuga, poiché non possiedo occhi da insetto non posso dire ora, ma vi assicuro che come per altre situazioni sia la richiesta del deputato Di Maio sia la richiesta giusta o sbagliata che fosse la prima e la seconda del deputato Rosato saranno esaminati dall'ufficio di Presidenza, c'era la presenza del questore D'Ambruso. Va bene, allora rientriamo in diretta, avete capito, ci eravamo lasciati, ci eravamo tanto amati, ci eravamo lasciati appunto con questa richiesta e con questa conferma che sarebbero stati analizzati insomma queste due richieste di due deputati, sia Luigi Di Maio che deputato Rosato. Ma la questione, l'oggetto del contendere evidentemente era anche l'acquisizione da parte del Movimento 5 Stelle dei gruppi parlamentari proprio di questo video, perché sappiamo appunto che vengono registrati tutti gli interventi e i lavori dell'Aula. Allora andiamo subito a Roma da Maria Edera Spadoni che saluto e alla quale do il buongiorno. Ciao Maria Edera. E ci facciamo spiegare direttamente da lei. Allora ritorniamo solo a fare la storia degli eventi. Il 24 ostrobe scorso il deputato del Partito Democratico Enzo Lattuga ti ha aggredito. Da lì che cosa è successo? Allora da lì è successo che chiaramente dopo un attimo di straniamento, dopo l'aggressione, io ho fatto richiesta formale il giorno dopo all'ufficio di presidenza richiedendo i video e richiedendo che partisse comunque un provvedimento. A quel punto dopo 20 giorni, il 14 novembre, l'ufficio di presidenza mi ha risposto in una lettera dicendomi che ci sarebbe stata la visione dei video appunto di quella sera e appunto i questori avrebbero audito sia me che il collega Lattuga. A quel punto io ho richiesto comunque la pubblicazione, cioè quindi non soltanto la visione tra le quattro mura del palazzo, io assieme ai questori, ma o il recito o la loro pubblicazione, per me è indifferente, non è che voglio i video, però voglio che vengano pubblicati. E chiaramente appunto durante l'audizione che è stata fatta separatamente, assieme ai questori abbiamo visionato i video, quindi io li ho visionati, si vede fondamentalmente da il, perché è proprio la telecamera in alto, quindi si vede appunto Lattuga che si avvicina e c'è un diverbio, chiaramente non si vede perché comunque la telecamera essendo lontana, cioè siamo tipo delle figurine alte così, però si vede chiaramente, sì esatto, si vede chiaramente Lattuga che si avvicina, che c'è un discorso e poi a un certo punto si vede chiaramente che lui si avvicina e si vede il gesto proprio del dare dei colpi, quindi si vede chiaramente il braccio di Lattuga che dà dei colpi, ecco poi chiaramente io sono coperta perché si vede soltanto lui di schiena e io sono davanti essendo lui alto 1,90 chiaramente mi ricopre diciamo, però una cosa che non avevo notato perché chiaramente quando sei in quella situazione non vedi, una cosa che ho notato è stato proprio che nel momento in cui Lattuga si è avvicinato dietro e infatti quando ci sarà la pubblicazione dei video si vedrà, perché io voglio che ci sia la pubblicazione dei video, infatti ci sono delle prospettive positive quindi, cioè può darsi che le pubblichino o cercheranno? Adesso vi dico, adesso ti dico, quindi vedi proprio lui che si avvicina e vedi una capannella di commessi dietro di lui, questo proprio a riprova del fatto che comunque c'è stato, cioè c'è stato un atteggiamento... Se partono i commessi vuol dire che c'è un atteggiamento aggressivo, una situazione da risolvere, altrimenti se ne stavano... Esatto, lì dalla telecamera proprio ho visto veramente questa capannella di commessi dietro Enzo, quindi evidentemente c'era un momento di tensione e di aggressività e a quel punto io ho fatto un mio intervento, un mio intervento abbastanza diretto, nel quale fondamentalmente ho richiesto la pubblicazione dei video, visto che mi veniva richiesto da moltissimi cittadini, ho richiesto che iniziassi un provvedimento disciplinare nei confronti del collega per un semplice fatto, perché se non ci sarà un provvedimento disciplinare, questo vuol dire che da adesso in poi saremo autorizzati a urlare, urlare addosso, arrivare a pochi centimetri dal viso e simulare dei colpi in testa, sarà in un'aula parlamentare autorizzato e ho richiesto anche, ho preteso anche che se mai dovesse succedere in futuro una situazione simile alla mia, non ci sia nessun tipo di solidarietà né da parte dell'ufficio di presidenza né da parte degli altri gruppi, fino a che non ci sia la pubblicazione dei video e finché non ci sia effettivamente il lato, insomma il procedimento in corso, questo proprio perché insomma le persone, vorrei che le persone fossero trattate nello stesso modo e questore Amruoso ha detto benissimo Spadoni, visto che dice che ci sono moltissimi cittadini che l'hanno richiesto, allora ci mandi la segnalazione direttamente dai cittadini, a quel punto mi si è aperto un barco, non sembrava neanche vero, ma quindi quest'ora lei mi sta chiedendo di mandarvi delle mail, io ho detto ma benissimo, non ci sono problemi, allora a quel punto ho fatto richiesta, ho attivato la rete e ho fatto richiesta che i cittadini mandassero questo messaggio alla Presidente dei video, ieri è stato appunto c'è stato una specie di, il server risultava non funzionabile, cioè non in funzione e quindi oggi ho fatto un intervento con la Presidente Sereni, non funzionante esatto, e oggi purtroppo però ho fatto un errore Matteo, ho fatto proprio un errore, allora praticamente io oggi ho detto, durante l'intervento, ho detto troppe volte la parola cittadini. Quando ce ne sono troppi cittadini si infastidiscono alcuni delle istituzioni, l'abbiamo vista la Sereni, proprio sei rigidita. Non ho capito il discorso quando io semplicemente dicevo guardate c'è un problema tecnico nel sito della Camera, vi chiedo di metterlo a posto, visto che molti cittadini stanno cercando di inviare la richiesta di pubblicazione dei video, non riescono e non vorrei mai che i cittadini, non la Spadoni chiaramente, ma che i cittadini pensassero che è stato chiuso appunto, è stata chiusa la possibilità di inviare messaggi perché ne stanno arrivando troppi o stanno arrivando troppe richieste, non vorrei mai che questi cittadini lo pensassero. A quel punto la Serena ha detto guarda mi sa che ha detto troppe volte cittadini, quindi non ha capito, però insomma chi voleva intendere è inteso. Ma se vogliamo possiamo anche vederlo questo pezzettino, purtroppo c'è poco da ridere in realtà nel vedere queste immagini, ma insomma se volete lo possiamo anche far vedere, ma direi di no, lo hai già spiegato tu, direi di non infierire ulteriormente perché non ce ne sono buoni motivi. Invece mi interessava capire come il deputato Latuca continua invece a sostenere che lui non ha fatto niente, perché ha scritto anche su Twitter, oggi io non ho nulla a incontrare alla pubblicazione del video che dimostra che da parte mia non c'è stata alcuna aggressione, ovviamente lui sostiene la sua versione, perché va avanti così e non ti ha chiesto scusa? Te lo dico perché mi piacerebbe capire al di là di tutto, al di là delle ideologie politiche differenti, gli schieramenti, perché un ragazzo che ha fatto una minchiata, perché se si permette di fare il gradasso e l'uomo con una ragazza mi sembra solo che sia uno piccolino, non un metro e novanta, perché non è venuto anche di nascosto di guarda scusami? Poi magari politicamente fai l'intervento ipocrita come ci hanno abituato, ma almeno uno scusa in privato. Allora il discorso è il seguente, io credo che ci sia un problema di terminologia, nel senso che se tu non hai esattamente chiaro che cosa vuol dire aggressione, che cosa vuol dire minaccia, che cosa vuol dire intimorire, allora a questo punto è come se parlassimo in due lingue diverse. Io durante l'audizione ho proprio parlato di terminologia e quindi ho messo, ho detto praticamente, che cosa voleva dire minacciare, cioè far temere a qualcuno un danno, un male con l'intenzione di mettere in atto il proprio proposito con lo scopo di intimorire, minaccia, violenta di uno o più persone nei confronti di altre persone e termine del linguaggio corrente non giuridico usato anche in senso più ampio per indicare in genere atti compiuti con spirito di aggressività e di sopraffazione. E violenza, in senso più ampio è l'abuso della forza, rappresentata anche da sole parole o da civizie morali come mezzo di costrizione. Timore, la condizione e lo stato d'animo di chi teme e di chi pensa possa verificarsi un evento dannoso, doloroso o comunque spiacevole. Ora, io mi sono sentita minacciata in questo caso, quindi ho veramente avuto il collega Latuca in quel momento potesse colpirmi. La risposta è sì. Io mi sono sentita appunto intimorita da un atto oggettivamente parlando aggressivo. Sì, allora lì dipende che lingua parliamo, perché se l'aggressione è soltanto fisica, allora giustifichiamo tante cose e questo diventa anche pericoloso dal mio punto di vista. Perché non si può dire che non ci sia stata aggressione quando ti trovi nei video una capannella di commessi dietro che comunque capiscono che la situazione è un attimo così. Quando hai una persona che ti arriva a pochi centimetri urlando e facendo un gesto del colpire. Se questa non è aggressione, allora mi chiedo dove arriva, che cosa si deve fare affinché sia aggressione. Quindi ripeto, chiaramente il discorso viene visto in due modi. Io dal mio punto di vista, per come mi sono sentita io lì, perché io lì mi sono sentita comunque impietrita, cioè sono rimasta otto secondi subendo comunque un atteggiamento aggressivo da parte di un'altra persona. Se questo per il collega Lattuca non è aggressione, non so dove dobbiamo arrivare. Non c'è dubbio Maria Redera, non c'è assolutamente dubbio. Senti, ma a questo punto i tempi per cui potrebbe essere pubblicato questo video li hai capiti? Li abbiamo capiti? C'è una speranza di vedere dentro breve, di modo che possiamo anche mettere al corrento tante persone che forse non ci credono, diranno ecco la grillina ha fatto tanto rumore per nulla, ma poi in realtà Lattuca è un bravo ragazzo, si è scusato, anzi non si è scusato, ma lui ha detto che assolutamente non è stato. Ecco, vorremmo vedere queste prove, quando ti aspetti di poterle vedere pubblicate? Allora, i questori non hanno parlato di pubblicazione o di date, nel senso che loro hanno detto bene Spadoni ci faccia avere le richieste da parte dei cittadini, visto che ha detto che i cittadini le hanno richieste, quindi ci faccia pervenire queste richieste e poi valuteremo. Chiaramente da regolamento della Camera, insomma, sono i questori che comunque autorizzano o decidono, quindi l'azione che si può fare è un'azione comunque di pressione nei confronti dei questori, anche perché non vorrei che tirassero fuori, per esempio, non lo so, la questione della privacy. Nel video che si vedono, visto che noi veramente siamo delle figurine abbastanza piccole, non è riconoscibile, mi viene da dire che non è riconoscibile veramente a nessuno, poi l'ho visto, insomma, me l'hanno fatto vedere due volte e quindi l'ho visto, insomma, non l'ho rivisto più volte, però non c'è un problema di privacy e quindi io non trovo motivazioni. A parte il fatto che, scusa, tutte le cose che succedono e avvengono dentro la Camera, per quale motivo dovrebbero essere soggetti alla privacy. La Tuca è d'accordo, cioè non vedo proprio… Certo. No, beh, chiaramente, però, non lo so, magari c'è il commesso, non il deputato, ma magari c'è il commesso che dice io non voglio che in questa situazione il mio viso, non lo so esattamente se ci sono delle problematiche o no, però chiaramente può essere che, insomma, per la tutela comunque dei lavoratori che appunto lavorano alla Camera, ci può stare, è un'ipotesi mia premessa, nessuno mi ha parlato di privacy, l'unica cosa a cui ho pensato è stata questa, ecco, quindi… Ecco, senti, per aiutarci, aiutarti e aiutarci finalmente a fare un po' di pressione su questa questione, avevamo pubblicato stamattina anche sul blog di Beppe, c'è l'invito, il modulo per poter scrivere alla Presidente Boldrini. Grazie. Grazie. nazione, province, eccetera, il telefono e il testo del messaggio. Se volete farvi un'idea, cliccate e andate su beppegrillo.it, in alto a destra c'è proprio questo ricordo dell'aggressione di Lattuca a Maria Edera Spadoni e c'è un piccolo testo. Comunque l'idea era inviare una montagna di email alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, proprio per far capire che ci sono tanti cittadini e le mail arriveranno una per una, quindi anche la Sereni non avrà problemi se le faranno sbobbinare alcune, perché le leggerà una alla volta, quindi non avrà tutta questa folla impazzita di cittadini che chiedono il rispetto delle regole e vogliono assolutamente che venga difesa una nostra portavoce che è là dentro in mezzo agli squali che si sta comportando esattamente come ci si comporterebbe fuori da quei luoghi, ma quelli dovrebbero essere, a maggior ragione, i luoghi dove si difendono e si proteggono questi diritti. Pronto? Sì, ci sono ancora, pensavo che facessi un'ulteriore replica, ma siccome ho visto che ci sono un po' di problemi di ritardo nella linea interna, da quando termino io di parlare a quando ti arrivano tutte le mie parole, passa circa un minuto, quindi ci stiamo guardando con delle pause semestrali che saranno abbastanza buffe, ma nel podcast risolverò, Maria Edera, non è colpa nostra, è colpa della rete italiana, della rete interna. Vai tranquillo. Senti Maria Edera, ci stringiamo attorno a te, ti abbracciamo comunque, per fortuna mi pare che tu a tuo fianco abbia sia Alessandro I Battista, Maglio Di Stefano, sei credo contornata anche da bei ragazzoni che ti daranno una mano e ti proteggeranno da questi buffoni travestiti da giovani, perché evidentemente se hanno quell'atteggiamento è molto vecchio stile, vecchio stampo, anche se si chiamano democratici. Speriamo solo che Enzo Lattuca prima o poi abbia il coraggio di dimostrare che è in un partito il cui premier ha le balle d'acciaio, di dimostrare di averle sul serio e venire a chiederti scusa, perché è lì che si vede se uno è uomo. Guarda, ho fatto una strozzata, ero arrabbiato, eravamo sotto pressione, ti chiedo scusa, guardandoti negli occhi, sarebbe secondo me la migliore exit strategy per questo deputato. Questa è la mia personale opinione. Sì, anche per me, guarda, mi farebbe veramente piacere. Bene, qualcuno ci dice che sono già state mandate molte email, Teletubbi dice io l'avevo mandata ieri alle 18 e me l'ha confermata, io ho mandato, io l'ho mandata, link, link, insomma vedo che ci sono, ti fanno passare per capriccioso, ho mandato un messaggio come tante la Presidente, la Tuca dichiarò eccetera, insomma vi abbracciamo, Maria stai attenta che queste la buttano nel ridicolo. Ecco, tu temi questa cosa, Maria Edra? Che possa essere mandata in vacca, come si suol dire, tutta questa questione. Che cosa? Che questa questione in genere, che sia un cercare di appigliarsi a qualcosa in giro. Ma io non credo, nel senso che comunque se c'è la disponibilità di pubblicarla, non credo che ci saranno problemi nel pubblicarlo. Io credo che appunto alla fine verranno pubblicati questi video, se non verranno pubblicati e non ci saranno neanche sanzioni, io darò appunto per scontato che un atteggiamento del genere a questo punto ho autorizzato in un'aula parlamentare e trarrò le mie conclusioni. Questo è il discorso. Diciamo che la cosa che più mi ha ferito in un qualche modo è che ci sia un atteggiamento diverso in base a chi sia davanti. Io credo che se fosse successa la stessa cosa a una deputata del Partito Democratico si sarebbe elevato un alzare, si sarebbe elevato un'alzata di scudi per difendere la collega in molto diversa rispetto a quello che sto cercando, rispetto alla battaglia che ormai sto portando avanti, ma mi sembra veramente assurdo che io debba portare avanti una battaglia semplicemente per avere riconosciuto il fatto che c'è stata un'aggressione. Poi come dici giustamente tu, il collega Lattuca viene e mi dici, guarda Maria Edera mi dispiace, hai ragione, va bene, parliamone, può succedere, però se non c'è questo, di cosa stiamo parlando? Io sono qui che devo lottare semplicemente per avere riconosciuto un atto molto spiacevole che è successo, per avere riconosciuto questo. Io quando sono andata in audizione con i questori, personalmente l'impressione che ho avuto io era un atto molto spiacevole. C'ero io in una seduta, in questo tavolone di legno lunghissimo, ho i questori dall'altra parte che cercavano di sminuire la questione e io che quasi dovessi difendermi o dovessi in un qualche modo giustificare il mio, giustificare qualcosa. Questo è stato terribile, questa cosa è stata terribile, perché se ho avuto questa sensazione vuol dire che c'è qualcosa che non torna. Poi ci ritroviamo ad applaudire di fronte al DL sul femminicidio, contro la violenza sulle donne e tutto il resto e poi ti ritrovi comunque una donna che viene, che si dubita. Adesso c'è il dubbio ed è questa la cosa peggiore, che ci sia il dubbio delle mie parole, che ci sia bisogno dei video. Io pretendo lo stesso atteggiamento, pretendo lo stesso atteggiamento per tutte le altre donne, perché se no, allora veramente usiamo due pesi due misure e quindi avere il dubbio veramente è la cosa più terribile. Il fatto di non aver avuto nessun messaggio di solidarietà né da parte dell'ufficio di presidenza, proprio a livello formale né da parte degli altri gruppi. Nel senso, secondo me si poteva anche dire, guarda, credo che la versione di Enzo Lattuga che dice che non ha aggredito nessuno, però se tu come donna ti sei sentita così, mi dispiace e quindi ti do solidarietà per quello che ti è successo. Questo non vuol dire do ragione a te e do torto al mio collega, però vuol dire, guarda, come donna capisco, ti sono vicina, capisco sì che appunto ci sia stata una situazione spiacevole e ti do solidarietà e questo non è successo e io devo stare qui a fare interventi, perché oggi era il terzo intervento per richiedere la pubblicazione di video, sono qui ad andare alle audizioni, a dover semplicemente votare per un riconoscimento, che è semplicemente uno, un collega ha fatto un errore, può succedere, non ci sono problemi, però che almeno venga riconosciuto e io sto lottando per questo. Che strano però, è singolare quello che hai detto, che ci sono casi nella politica italiana dove si usano due pesi, due misure. Mi viene in mente per esempio il fatto, come sia irreprensibile l'operato anche della Cancellieri in questi giorni, insomma si è visto, ne abbiamo sentito parlare, ma ovviamente la politica ha reagito in maniera compatta. Adesso speriamo che essendo portata anche nell'aula del Senato questa mozione di sfiducia, forse il Partito Democratico si ravveda, riesca a capire invece che è l'ora di piantarla con questi due pesi e due misure, ma che le istituzioni non solo siano oneste, ma che si rappresentino e vengano percepite come trasparenti e come uguali per tutte, senza nessun accesso facilitato appunto con i due pesi e le due misure. Magari. Allora Maria Edara, noi ti salutiamo, teniamo ovviamente i riflettori puntati su questa cosa, speriamo nelle prossime settimane che tu non debba fare altri interventi, perché sicuramente sei una ragazza che ha voglia di occuparsi anche di tutte le questioni di cui si deve occupare il movimento, però giustamente su questa battaglia ti seguiamo, speriamo appunto che si risolva e che ci sia una presa di coscienza sia da parte della Presidenza della Camera e io mi auguro che lo faccia anche la Tuca, che riesca a tirare fuori, mettere da parte l'orgoglio e che tiri fuori veramente gli attributi e che ti venga a chiedere scusa. Altrimenti c'è già pronto nonno Mario, che è un nostro interattore over 70, che ha detto se viene a fare lo spiritoso a Roma glielo faccio vedere io chi è uomo, quindi ti mandano tutti un grande abbraccio, ovviamente era una battuta, noi non siamo per la violenza, ma siamo genuini ma non ingenui e quindi siamo anche stufi di vederci prevaricati. Un abbraccio grande Maria Edera, a presto e buon lavoro. Un abbraccio anche a te. Ciao, grazie mille. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Allora ritorniamo in diretta dal nostro quartiere generale di Milano, ma facciamo vedere a questo punto questo piccolo video della Sereni di oggi perché purtroppo è anche un po' esilarante. Maria Edera è stata esaustiva, cioè perfetta, ha detto una cosa talmente semplice che l'avrebbe capita anche un bambino, ora non è perché dobbiamo per forza fare i complimenti ai nostri ragazzi, ma è un video talmente semplice e ve lo faccio vedere perché ha qualcosa insomma di incredibile. Ecco, oggi l'intervento di Maria Edera alla Camera e come ha risposto chi presiedeva l'Aula in quel momento, ovvero la Sereni. Ecco qui. La deputata Spadoni, ecco sì perché avevo visto un movimento, ma... Prego. Sì, grazie Presidente. Intervengo per segnalare un possibile problema tecnico al sito della Camera. Ieri ho avuto un'audizione riguardante l'episodio che ha coinvolto la sottoscritta del deputato Lattuca il 24 ottobre e ho fatto richiesta di pubblicazione dei video della seduta appunto del 24 e il questore D'Ambroso, visto che la richiesta era stata avanzata da molti cittadini, il questore D'Ambroso ha sollecitato direttamente le richieste dei cittadini. Ora sembra che i cittadini non riescono a mandare il messaggio al sito della Camera e in questo caso la Presidente. Quindi io non vorrei che i cittadini pensassero che questa cosa sta succedendo perché non si vogliono recepire queste richieste. Chiaramente non lo pensa la deputata Spadoni, non vorrei che lo pensassero anche i cittadini. Quindi richiedo, sollecito l'ufficio di Presidenza a risolvere la questione il prima possibile, di modo che i cittadini possano inoltre la loro richiesta. Grazie. Confesso che con tutti questi cittadini non ho capito di che trattasi, ma spero che il questore D'Ambroso che qui abbia capito, diciamo, io ho registrato ma non ho capito la richiesta. Comunque va bene.